e bentornati amici della legge italica samore wario che vi parla siamo tornati con il nostro quarto episodio con draso al cenereo cenereo allora l'ultimo episodio cosa abbiamo fatto abbiamo fatto fuori il clan degli scaven di tresco da pavida che aveva il monte grigia megera la torre del dolore e il monte gobba che abbiamo trasformato in una delle nostre roccaforti in cui adesso stiamo costruendo l'estrattore di triboli e il prototipo di mega mortaio in modo da avere delle difese abbastanza forti in caso qualcuno qua specialmente in ani decidesse che vuole attaccarci poi abbiamo proseguito abbiamo preso il sepolcro di anugrel e la fortezza di vorag facendo fuori imrik abbiamo perso i nostri cadai nel corso della battaglia ma non dovrebbe essere un problema perché tra due turni li potremo rireclutare direi che passiamo il turno e vediamo di prendere la roccaforte oscura prima però mi sa che ci sono degli uomini lucertola che non sono tanto felici di quello che stiamo facendo fantastico allora abbiamo cosa sta succedendo ok una battaglia per avere l'amuleto si si ok ok l'amuleto del frammento infernale che insomma molto molto buono però ho sentito che è una battaglia non facile quindi forse prima dovremmo stabilizzare un attimo la regione poi creiamo un nuovo convoglio perché gli ultimi sono tornati un altro turno dobbiamo sceglierne uno qualsiasi e direi che scegliamo il comandante di mostri e vediamo vogliamo mandare in un posto dove per un po' di soldi stavolta abbiamo bisogno di un po' di materiali quindi andiamo a prendere un po' di materiali per dei soldi gli schiavi ce ne abbiamo più che sufficienza e direi che è arrivato il momento con Drasua di andare a far fuori per una volta per tutta la passione di Imrik vittoria decisiva perdite basse va benissimo e lo trasformiamo in un avamposto perfetto ora qua abbiamo tre avamposti e una fabbrica cominciamo ad accettare della nuova manodopera qua e cominciamo a costruire vabbè qua facciamo questo ma la roccafortoscura per esempio più o meno che ok faremo delle miniere a cielo aperto in modo da cominciare a produrre materiali anche da qua perché come potete vedere non stiamo messi troppo bene poi il prossimo turno ci portiamo a Porco Baratto alla Fortezza Nera e appena avremo 3000 giù di lì cominceremo a reclutare un secondo esercito che ci dia una mano un po' in generale ora possiamo scegliere cosa continuare a ricercare andiamo a vedere nelle attività produttive perché possiamo pagare 1000 per diminuire i costi di costruzione e il tempo di costruzione degli avamposti oppure possiamo cominciare a ricercare le gide dei mercanti che considerando che non siamo in nessun trattato con nessuno per ora non è esattamente la cosa migliore qua non mi sembra che ci siano delle cose troppo importanti sì questo è per aumentare il la nostra diplomazia con i rani con i nani del caos e altre forze del caos mmm ok però direi che andiamo a farci le gide dei mercanti poi possiamo migliorare i falcioni di fuoco che però non sono sicuro che possiamo esatto i falcioni di fuoco dobbiamo aspettare 5 turni prima di poterli fare quindi no e direi che ci siamo dobbiamo solamente dare un'occhiata alle nostre terre ok niente di che abbiamo un decreto disponibile facciamo quello che riduce il costo di mano d'opera e di costruzione per tutti gli edifici sì decisamente e possiamo passare il turno dobbiamo andare a intercettare questi uomini lucertola in un modo o nell'altro anche se penso che stiano andando alla baia esatto alla baia roccia frantumata intanto ci dobbiamo andare vicino perché ci sono le nostre ok hanno preso una sede nella torre di zar ok intanto dobbiamo andarci comunque vicino alla baia roccia frantumata perché ci sono una e due quest battle qua in zona e inoltre questo è il primo insediamento in cui possiamo reclutare qualcosa di decente allora quando cominceremo a produrre i nostri materiali qua perché qua ok qua possiamo trasferire degli schiavi due tre quattro cinque seicento schiavi qui per 1200 li trasferisco molto volentieri e vedete che la nostra produzione è migliorata tantissimo qua quasi quasi si utilizzo gli schiavi in più per migliorare la torre e vediamo cosa possiamo costruire possiamo aspettare per farci la caserma infernale che non sarebbe male oppure fare l'inceneritore però questa provincia consuma pochissimi materiali e grezzi quindi no oppure possiamo fare i campi di lava per le bestie sarei tentato ad aspettare la caserma infernale però sono soldi tanti soldi che dobbiamo investirci devo dire la verità quindi facciamo i campi di lava esattamente allora qua non vogliamo spendere soldi perché per migliorare questo edificio ci servono circa 7000 di oro noi li faremo in un paio di turni e poi potremmo fare finalmente la guardia infernale e le spade di fuoco questa campagna si sviluppa molto velocemente in verticale il problema è che poi ci sono gli unit cap da tenere in considerazione ok e qua c'è Grimgor che sta passando in giro clan Kizor è stato distrutto erano gli scaven qua a nord si adesso c'è Grisus che non è che ci voglia tanto bene quindi potremmo avere dei problemi con Grisus in futuro vediamo ora se ok non riusciamo a raggiungere la la baia se andiamo in marcia normale dobbiamo per forza andare in marcia forzata e andiamo a vedere un po' un loro esercito composto da tanti scinchi poi possiamo migliorare questo e anche la trivella che aumenta i materiali grezzi al turno ma il carico di lavoratori di 500 va benissimo perché i lavoratori non ci mancano proprio e beh qua abbiamo finito di fare le gide ai mercanti quindi faremo il padrone del convoglio alla fortezza di Vorag possiamo costruire qualcosa e costruiamo la bottega dei minatori che aumenta la produzione di materiali grezzi del 10% in tutta la provincia molto bene e vediamo vediamo cosa succede questa è la nostra carovana lì a sinistra che si sta muovendo e qua la progenita decide che non ci vuole più attaccare ah ma io so cosa fare gli tendiamo l'imboscatina allora ok questa è sempre quella dei demoni stavolta stavolta non abbiamo però un un redquake mortar e questi demoni sono comunque abbastanza fortini però spererei che con un lamass e un grande taurus potremmo forse riuscirci non lo so vediamo nel peggiore dei casi abbiamo perso mille di oro dal nostro convoglio e il buon arect di nagrund poverino beh verrebbe messo ancora più in basso nel terreno rispetto a quanto non sia che già è basso di lui nell'armata nemica vi preoccupano tanto il gigante e le unità di spawn del caos però adesso vediamo dove posizionarci perché penso che se ci mettessimo qua a questa imboccatura con i blunderbuss faremmo grandi macelli poi i due volanti li lasciamo volare in giro e vediamo se riusciamo a posizionarci un attimo meglio ok poi 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 mettiamo un'unità di guerrieri di nani del caos qua una qua dietro il lamass lo mandiamo in un fianco il great taurus dall'altro l'obiettivo è fare fuori i mastini da guerra del caos il più velocemente possibile in modo che non riescano a attaccarci i tiratori fra parentesi tempo di guardarci il lamassu una creatura interessante oserei dire anche se c'è tutte queste robe che gli girano attorno ok allora scende su di quello per te è un po' pericoloso scendere però il lamassu perché i mastini da guerra qua sono supportati e pensavo andassero in rotta subito questi mastini invece no stanno combattendo ok allora forse possiamo andare un attimino più indietro si grazie ok quei mastini non sono ancora andati in rotta male male e qua i nemici si stanno per blobbare malissimo ok tu li insegui qua ci servirà il lamassu per bloccare qualsiasi nemico che voglia passare un po' più largo di quello che dovrebbe eccoli qua i mastini da guerra vediamo di mandarci dentro anche i nani del caos in questo momento noi vogliamo bloccare la fanteria e fare fuori le unità larghe come che ne so i troll come le progenie e cose del genere quindi diciamo ai nostri intanto di rimettersi in posizione perché a quanto pare non sono capaci di starci e poi quando saremo in posizione gli diremo a chi sparare voi dovete entrare dentro facciamo fuori il gigante per prima cosa ok il gigante sta andando giù che è un piacere facciamo tornare il nostro grande taurus e la nostra fanteria sta andando bene direi che diamo un nemico debilitato su guerriere del caos e qua stiamo andando bravissimi ok qua possiamo attaccare con entrambi i nostri mostri tanto non ci sono la barde e poi mettiamo così i nostri tromboni no magari non così perché hanno appena ceduto le nostre linee di guerrieri del caos sono terrorizzati ma da cosa che non c'è niente che causa terrore qua non c'è letteralmente niente che causi terrore e sono terrorizzati vabbò spariamo alla progenie del caos progenie 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 e questi non si sono ancora ripresi no perché sono andati in rotta ah maledizione allora penso che il piano funzionerà dobbiamo solamente avere un pochettino più di culo allora voi fate fuori questi guerrieri con la barda tu fai fuori quelli normali e probabilmente avremo bisogno del great taurus qua ragazzi ce la potete fare a tornandie grazie ok qua adesso switchiamo sui troll quando ne avete voglia carissimi i troll si vedono vero? a quanto pare no ah no 2 dai che ce la potete fare vabbè voi rimanete indietro che qua c'è il lord che creperà per noi oh mio dio sti mastini che continuano a tornare che rottura di balle hanno deciso di sparare al lord direttamente di tutte le unità che ci sono qua al lord eh ogni tanto l'intelligenza artificiale su warhammer è strana fa scelte discutibili ok dai che li facciamo fuori perfetto e allora direi che mandiamo l'amasu qua dietro il bait taurus darà una mano contro i guerrieri del caos con alabarda esatto e se i nemici provano ad arrivare ci mandiamo il lamasu purtroppo il nostro lord le sta prendendo di santa ragione quindi forse sarebbe ora di mandare l'amasu dentro al posto del nostro lord e tirare via il lord ok siamo riusciti a vincerla utilizzando quel quel pochissimo di di spazio che avevamo per far lavorare i nostri molto bene non abbiamo perso nemmeno troppe unità 110 circa un terzo della nostra carovana però vabbè mettiamo che vada bene speriamo di trovarci un qualche come cavolo si chiamano gli hobgoblin speriamo di trovarsi qualche hobgoblin che si vuole unire a noi quello dovrebbe essere più che carino ok ci prendiamo il re integro no prendiamo la tesoreria e ci siamo presi la spada della discordia vediamo se ci sono delle ecco qua allora abbiamo un sacco di oggetti inutili oserei dire vediamo se riusciamo a prenderne qualcuno decente per esempio scaglia luccicanti elmo del drago li posso fondere per un talismano della resistenza il che non è male possiamo fare la stessa cosa con la spada della discordia e quella degli altri eroi per il talismano d'ossidiana che è ancora meglio ok molto bene abbiamo il talismano d'ossidiana il talismano della resistenza lo diamo a gordaz e basta non abbiamo nient'altro molto bene allora qua dobbiamo vedere di tendere una trappola ai agli uomini lucertola perchè potrebbero vedere porco baratto non la fortezza di vorag ma forse anche quella dunque queste due sono di sicuro due dei posti più 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 probabili per essere attaccati e quindi se noi ci mettiamo in modalità imboscata dovremmo in teoria riuscire a tenere sotto controllo e magari farli ritornare qua vicini e poi il prossimo turno possiamo attaccarli vediamo di prendere il nostro una nostra sedia alla torre di zar non voglio sbloccare il secondo di stretto per tutti gli altri quindi ci tocca prendere o questo o questo e direi che ci prendiamo un seguace o uno standardo casuale ogni tre turni non possiamo prenderci il costellamento il meno 10% per tutte le unità ecco questa la dovremo prendere in futuro o nel senso prima o poi qualcuno lo prenderà o questo o questo e di conseguenza si sbloccherà il tier 2 possiamo anche migliorare la capacità di certe unità ma sinceramente finché non so cosa mi serve non penso di di trovarlo interessante e direi che ora possiamo cominciare a reclutare il nostro secondo esercito per il secondo esercito voglio utilizzare un profeta strigone e adesso andiamo a vedere quali sono i tratti migliori per esempio questo qua ha un bonus in disciplina per il combattimento contro pelleverde scaven ogre re dei sepolcri costa dei vampiri e conti vampiro che sono un sacco delle fazioni che possiamo trovare qua nelle montagne che è dove voglio andare perché già grisus non gli sto simpatico quindi questo potrebbe essere molto molto importante oppure non vedo dei dei tratti migliori sinceramente quindi cominciamo se dobbiamo andare a combattere contro i goblin contro susate gli ogre avremo bisogno di unità da schermaglia quindi gli goblin cavalcalupi con archi saranno molto interessanti per ora reclutiamo questi due poi ovviamente nessun miglioramento ancora alle unità la baia roccia frantumata adesso so un bel trick l'intelligenza artificiale tende a attaccare per primi gli insediamenti che stanno costruendo qualcosa perché non si sa però se noi cominciamo a costruire prima la fucile del carbone che aumenta la produzione di armamenti nella risorsa locale aumenta gli armamenti del turno ma si diminuisce i materiali grezzi e costruiamo anche il porto intelligenza artificiale visto che non vede la nostra armata perché è in imboscata dovrebbe tirare dritta per dritta verso la baia roccia frantumata e poi noi usciamo dall'imboscata e li attacchiamo questo è il piano guardate come adesso non succede proprio minimamente però noi ci proviamo eccolo qua la progenie di Tepok no stanno andando verso qualche zona qualche zona in culonia noi invece siamo messi male ok abbiamo ottenuto il talismano ossa di fauci che ci da più 15 armature e l'abilità alito di fuoco abbastanza inutile devo dire penso che ok ho ottenuto il tutore del convoglio però questo è un problema perché l'intelligenza artificiale ci sta facendo ballare col fatto che loro possono andare ad attaccare tutti gli insediamenti che vogliono e la cosa non mi piace quindi vi portiamo verso la fortezza i vorag non alla fortezza ma verso e cominciate a reclutarmi due vilcanaglie già partiamo da quello che è partire bene e noi potremmo anche andare ad attaccarli eh anzi noi li andiamo ad attaccare così almeno non abbiamo più nessun tipo di rottura di balle dovuta agli uomini inoltre possiamo partire con il nostro macchinista da guerra e mandarlo dove perché allo stretto del tiranno l'abbiamo appena mandato direi che lo mandiamo qua portando 280 armamenti per 700 schiavi questo dovrebbe essere molto molto interessante potenziamento edificio disponibile al monte grigia megera direi che facciamo il posto di guardia assolutamente sì e le cose stanno cominciando ad andare molto molto bene qua possiamo non possiamo ancora secondo me rinunciare ai materiali grezzi che stiamo facendo ora quindi non costruiamo niente con i nani del caos non bisogna dare dentro alla nostra voglia di costruire tutto subito bisogna decidere quali sono le province da costruire dove stanno andando al sepolcro degli anurial dunque con i nani del caos bisogna semplicemente decidere cosa vogliamo costruire e priorizzarlo nella maniera giusta adesso ora a me state un attimino rompendo le balle carissimi quindi io mi porto qua vedo di farvi fuori perché tanto minchia se il nostro esercito è il più forte è il loro vedo di farvi fuori e poi dopo andiamo ok abbiamo impalare la prossima la prossima sarà schivare che dà difesa e resistenza alle armi da tiro per tutte le unità dei nostri hobgoblin e questa cosa però ci sta tenendo indietro mica male poi passiamo alla stregoneria facciamo i condottieri miglioricamente al bonus di grado di reclutamento per l'orde d'eroe qua diamo ancora bilance migliorate e le riserve nascoste che così riusciranno a a riprendersi più velocemente e direi che passiamo il turno ancora quanto mi girano le balle i discepoli di Ashut ci hanno usurpato una una delle nostre che è quella che ci fa produrre più materiali grezzi fantastico più pur di non completare il il cosa hanno deciso di andarcelo a prendere a noi fantastico allora ma boh io vi seguo se mi andate a razziare mezzo insediamento a me comincia a girare il cazzo tanto ve lo dico però intanto facendo avanti indietro stiamo reclutando tutte le unità che ci servono per da parte degli hobgoblin ovviamente per andare poi a nord a far fuori gli scaven scusate gli scaven gli ogre qua roccia scorticata abbiamo la torre scorticata che è un landmark ma sinceramente vi pare normale pagare 5400 per una roba del genere a me no a me non pare assolutamente normale pagare 5400 per una roba del genere e inoltre con il giochetto che stanno facendo sti qua di mandarci avanti indietro non abbiamo combattuto nessuna battaglia quindi non stiamo guadagnando schiavi questo è un bel problema a parte che il nostro convoglio è appena partito quindi abbiamo sette turni però se questi qua adesso mi vanno verso la baia o robe del genere ho appunto dritto alla loro città così cominciamo a lavarci nelle mani ecco appunto ah che zio l'intelligenza artificiale è è proprio programmata per rompere balle e basta non ha un senso logico quello che stanno facendo però vabbè noi adesso ci mettiamo lì direi che possiamo reclutare i ragazzi lupo di Obroblacan e c'è stata data la guardia infernale inutile come ricompensa poi possiamo prendere altri due dei sedili ma io a sto punto aspetterei e gliene fregherei uno a loro perché non mi pare carino andargli a prendere andargli ad aprire un se cioè i seggi superiori alla torre di zar e vediamo se sono abbastanza se hanno i cohotes per attaccarci la roccaforte oscura ha avuto un problemino e va bene ci portiamo in ok e invece con drasua vediamo di uscire alla cavalcatura zanna di drago prima o poi questi qua dovranno decidere dove vogliono sbarcare e dovunque sbarcheranno non ci saremo ora vabbè sono un uno che vuole giocare le robe giusto per completarle quindi questa la faccio ma altrimenti ragazzi non ve la consiglio mai nella vita alla fortezza di vorag se no non voglio fare questo perché voglio migliorare la torre per la quale mi serve 4000 e inoltre no qua senza pagare niente non riusciamo a fare dobbiamo tenerci le armi perché appena torniamo indietro con drasua e dobbiamo rifarci i due eserciti praticamente da capo avrò bisogno di tutte le armi per aumentare la capacità esattamente di come la voglio io di conseguenza non possiamo fare tecnologia che richiedano armi o altro dove stai andando ora io il prossimo turno ti rendo un senso a casa non so se l'hai capito ok più avanti sono state avvistate tracce del passaggio di una truppa le orme proseguono per diverse leghe dunque si direbbe che abbia marciato senza mai sostare sulla cima di una vicina collina si intravede un luccichio d'oro e avorio una schiera dei re dei sepolcri sta marciando in questa zona carica di tesori ignoriamo quale sia la loro meta ma di certo non possiamo ignorare la loro pulenza potremmo attaccarci e prenderci tutto per noi e io dico assolutamente sì assolutamente sì qua ci prendiamo tutto quello che è nostro e anche quello che non è nostro il loro esercito è parecchio base noi abbiamo un Dreadquake Mortar sapete già come va a finire più o meno con queste cose e poi devo dire è bello vedere che le unità dei viaggi precedenti che abbiamo fatto si sono unite al nostro esercito perché tipo qua siamo andati in Silvania ci siamo portati a casa una Graveguard qua siamo andati nelle steppe del caos ci siamo presi un Drago Greshagot è proprio bello vedere il nostro esercito cioè la nostra carovana che parte da un nulla cosmico cioè comunque poco unità anche se comunque molto potenti e finisce ad essere comunque un esercito molto più eterogeneo con magari sì lebolezze forze tutte loro però è davvero bello vedere vedere questa cosa da un tocco di più secondo me al all'intera all'intera questione carovane rispetto a quelle di Katai che invece rimangono sempre solo gente di Katai come cazzo hai fatto a mancare questo io non lo so allora mandiamo avanti tanto loro non hanno unità veloci quindi mandiamo avanti il trenino ciuf ciuf e se gli arcieri si degnano di fermarsi li scanniamo sono curiosi di vedere come già fa il Dreadquake contro le catapulte perché tanto qua sappiamo che cosa stiamo sparando al Dreadquake ok voi avanti voglio vedere come funziona il Dreadquake come anti anti artiglieria e nemmeno tanto danno non dire la verità ok vabbè qua ci possiamo ritirare qua avanziamo con questi molto bene molto bene e qua a destra dove ci sono gli Ushabti ci prepariamo a mandarci il nostro Dragogre carichiamo con i nostri Fanti perché la loro il problema è che i loro arcieri hanno più range di noi ma adesso che sono fermi ci buttiamo semplicemente sopra il il Dreadquake mortar esatto intanto lì adesso ok la loro cavalleria la loro buongiorno artiglieria non esiste più qua possiamo cominciare ad utilizzare i blunderbuss esattamente ok qua vai qua bravissimo e questi qua questi sparano ai lanceri scheletrici ma mi sembra che stia andando tutto molto molto bene dai dai ragazzi voglio voglio utilizzare il trino ciuchuf non fa molti danni devo dire la verità sì no davvero pochi pochi danni poi qua siamo sui fianchi qua ci ritiriamo qua vai ah no sono ancora vivi sti usciati madonna ok con il trino ciuchuf ci mettiamo qua ai lati madonna sti arcieri non vogliono andare giù nemmeno a pagarli non le vogliono sapere non le vogliono continuano a sparare contro i nostri perché possono signor demone di ferro si gira ole come ha fatto a mancarli io non lo so ma adesso gli spariamo sopra con gli obdoblin e quindi siamo a posto poi ok finalmente hanno fatto la summon di usciati su l'evocazione degli usciati sul nostro cannoncino ma spererei che abbia abbastanza massa per passare attraverso ma che devo mandarci su delle unità per liberarlo altrimenti qua mi ammazzano il cannone senza far niente c'è che c'è non passa ok è passato è passato in qualche modo è passato il mortaio leviamogli il fuoco a volontà perché adesso ci ammazzerà tutti esatto ok buttiamoci sopra loro buttiamoci sopra loro voi potete sparare ah c'era mezzo millimetro di di altura troppo alta quindi non potevate sparare vi capisco poverini è una vita difficile quella delle persone basse ok voi li spostate via di qui e la battaglia vinta no vabbè tu vai continuo ad andartene e il re dei sepolcri è morto mhm il re dei sepolcri è proprio morto molto bene il nostro convoglio devo dire la verità lo spacca crani con il dreadquake ha fatto tanto tanto lavoro e anche le nostre grave guard anche se in un roster come quello dei nani del caos senza cura le vede un po' male ecco mettiamola così ok ok ci prendiamo della mano d'opera perché Dio se lo sa che ci serve ok finalmente Zatan ha deciso di prendere quale? questo qua e quindi ora si sono aperti i sit qua sopra vediamo qual è il il migliore l'ira di zar so che è molto molto il molto interessante anche questo però mhm penso che proveremo a fare generale promotore per ottenere più influenze in modo da poter ottenere più sedi nel nel consiglio ora io non so questo dove stia andando noi però qua possiamo cominciare a reclutare dei nani del caos che poi ci serviranno eh possiamo fare solo cose da un turno perché altrimenti poi se questi vanno troppo lontano è un problema però comunque poi è tutta roba che va va bene allora qua li facciamo diventare dei senza casa e la trasformiamo in una fabbrica abbiamo trovato l'armatura della forgia e nelle terre del lupo abbiamo meno 99 con meno 1 di quindi con meno 1 quindi il prossimo turno si ribellano ma la mia guarnigione qua sarà di sicuro sufficiente quindi non non mi interessa nemmeno ok noi siamo una legione di sicuro è interessante prendiamo la bandoliera qua le riserve nascoste questo qua è il nostro lord che ha appena combattuto e qua tiriamo giù quello questo aumenta la produzione di armamenti nella regione locale va benissimo quindi significa che tu diventerai il centro degli armamenti di questa monoprovincia e in più possiamo anche staccarlo con questo quindi produciamo il 20% degli armamenti in più che non sembra tanto ma in realtà guardate quanti armamenti stiamo cominciando a produrre adesso ne abbiamo 1500 tra un po' potremmo davvero farci qualcosa allora qua non c'è nessun insediamento che mi interessi migliorare qua nella fortezza nelle piane delle ossa la fortezza di vorag mi sta cominciando a piacere la situazione come detto avevo detto prima che volevo tenermi i 4000 poi sono andati a spenderli qua quindi no tu rimani così per ora mi dispiace della ribellione imminente va benissimo perché così ci facciamo più schiavi e ora sono curioso di vedere cosa vogliono fare questi uomini lucertoli andranno alle torri rottame andranno sicuramente alle torri rottame qua abbiamo gli scaven che sono tornati no non sarà un problema per niente allora questo è un esercito molto forte ma il nostro qua può essere meglio soprattutto perché le barbe fiammeggianti saranno dalla nostra parte oh inoltre abbiamo 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 degli oggetti da dare qua diamo il talismano l'armatura della forgia la lama di ossidiana il ghiacciaio imperituro e non abbiamo nessun oggetto incantato quindi fa niente ah no c'è l'anello di spine va bene dai diamogli tutto così diventa un super lord ovviamente le magie non le potrà castare e poi quando avremo i soldi gli daremo un taruk ora qua 200 li posso spendere per cominciare a produrre nuovi armamenti e cominciamo a muoverci in marcia forzata verso questo esercito di uomini lucertola e direi che per questo episodio è tutto noi ci vediamo con l'episodio numero 5 domani ciao a tutti ragazzi